Ora, vi diamo la notizia che questo weekend a Monté, in Svizzera, si è conclusa l'Assemblea dell'ONU, cioè l'Organizzazione per una Nuova Umanità, composta da 17 membri provenienti da diverse parti del mondo. Con lo scopo di diventare ambasciatori della pace, hanno combattuto una vera e propria guerra. Sì, così l'hanno definita. Una guerra contro il proprio io, per andare oltre i propri limiti. Hanno scoperto che la migliore strategia per vincere è perdere la propria idea, perdonare se stesso e amare l'altro. Uno dei partecipanti ha dichiarato che la pace interiore è il primo passo per costruire rapporti di fraternità. Ora abbiamo l'opportunità di conoscere chi sono e quale sarà la loro missione. Ciao a tutti, sono Lulu della Cina. Io entro in Italia. In questa scuola ho vissuto l'esperienza della fraternità nella diversità. Io vorrei portare l'unità lì dove entro e testimoniare il Vangelo. Ciao a tutti, io sono Micala, vengo dal Brasile. Io sono Rosaline, vengo da mia mamma. E sono Nico, sono filippino. Abbiamo in cuore la gratitudine e la gioia di aver sperimentato cosa significa essere chiesa, cioè il valore della comunità come corpo di Cristo. Noi andiamo in Filippine! Ciao a tutti, sono Catherine, vengo dal Malawi e vado in Tanzania a costruire la famiglia. Ciao a tutti, io sono Anita, vengo dall'Argentina e con tanta gioia vado al Gem Verde. Ciao a tutti, io sono Fernandus, vengo dall'Indonesia. Vado a far fiorire il dialogo in Indonesia. Ciao a tutti, sono Lisa, cinese, vado in Giappone portare l'amore. Ciao a tutti, sono Rinaldo, di Cuba, e andrò in Colombia per contribuire alla unità della famiglia umana. Buongiorno a tutti, io sono Rodrigo, del Congo, e vado in Camerun a stare accanto alla grande gioventù africana. Ciao a tutti, io sono Alejandro, sono del Venezuela. Io andrò al centro del mondo, Ecuador, quindi aspetto che anche il mondo possa diventare il mio centro. Ciao a tutti! Lei è Tamiris, brasiliana. E lui è Felipe, brasiliano. Dove andiamo? In Brasile! Per lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Sono SOM, sono thailandese, sono pronta per aprire il mio cuore e l'anima per la gente in Thailandia. Ciao a tutti, sono Ivana, vengo dall'Argentina e andrò all'Argentina. Questa formazione mi ha aiutato a crescere nell'accoglienza della diversità e soprattutto a superare gli ostacoli per conoscere veramente l'altro e scoprire che è un'immensa ricchezza per me. Anthony, tu come cinese sei pronto per andare a Shanghai? Sì, ma certo! Sono prontissimo a testimoniare l'amore di Dio e unico per ogni persona. E tu, Elisa, come italiana, sei pronta per Shanghai? Sì, sono felicissima di incontrare questa nuova cultura e ho pensato a un modo molto concreto per fare amicizia. E tu cosa ti porti? Per me, in modo migliore, indovinare i bisogni dell'altro. Guarda! Benissimo! Andiamo! 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 Andiamo!